Buongiorno a tutti, io sono grato a Ispra di questo invito che in realtà non è il primo a proposito della presentazione del rapporto ormai tradizionale, giunta alla quattordicesima edizione sulla qualità dell'ambiente urbano, che è diventato un preciso punto di riferimento per molti, compreso il comitato per lo sviluppo del verde pubblico creato dalla legge del 2013 che ricordava prima Sandor Bratti a proposito degli alberi monumentali che mi onoro di presiedere per il secondo mandato consecutivo. Per noi questa è una miniera di informazioni, di spunti, in realtà anche di rilevazione di dinamiche che attraversano tutta la penisola. Il comitato ha realizzato nel corso del 2018 due importanti operazioni. Da un lato ha dato attuazione all'ultima parte della legge 10 del 2013 che non l'avevamo ancora trovata, cioè ha sviluppato quel piano nazionale del verde che è destinato a diventare, nelle intenzioni e speriamo anche nella pratica, la madre di tutte le pianificazioni del verde che ancora mancano all'appello nei tanti comuni dove non ci sono, come ricordava il bel video che abbiamo appena visto, e magari un'occasione di ripensamento e di riscrittura dei piani del verde che già ci sono. Abbiamo realizzato in occasione, come ormai facciamo da cinque anni, di Stati Generali del Verde, in occasione della giornata nazionale degli alberi che per legge è il 21 novembre, dedicata quest'anno a quattro temi che si ritrovano tutti, sia nel rapporto, nelle parole di Sandro Bratti, sia nel video che abbiamo visto. Abbiamo messo l'attenzione sul rapporto tra verde e cittadinanza attiva, perché c'è un fenomeno molto importante che ha bisogno di essere persino governato nel suo slancio e nella sua spinta, che è più forte di quella che ci aspettavamo, di attivismo civico nel supporto e qualche volta nel soccorso delle amministrazioni comunali che si trovano in difficoltà nel gestire un patrimonio verde che sconta ancora numeri bassi, perché quel 4% di cui si è parlato già è il 4% vero, la situazione è quella su scala nazionale a livello di media, ma in realtà dentro quel 4% ci sono situazioni completamente diversificate, c'è un verde anche di grandissimo pregio, non soltanto a Roma o a Milano, ma anche in situazioni dove gli spazi verdi sono davvero alle prese con un fenomeno di limitatezza fisica degli spazi insuperabili. Faccio il caso di Venezia, faccio il caso dei Giardini della Regina, che sono in uno dei punti più visti del mondo, accanto a Piazzetta San Marco, voluti da Napoleone, cadenti in rovina, che adesso è un grande progetto di rilancio che vede, come noi abbiamo sempre auspicato, finalmente si traduce in realtà a braccetto pubblico e privato, un colosso come assicurazioni generali, il Comune di Venezia, la Regione Veneto, il Ministero, per restituire alla città uno dei pochissimi spazi verdi che a Venezia ci sono da ormai centinaia d'anni. E lì capite che il tema della limitatezza fisica degli spazi è un tema non superabile. Quindi è chiaro che se parliamo di consumo di suolo, questo discorso a Venezia conosce una declinazione che ha, come dire, connotazioni del tutto particolari. Abbiamo però, ho voluto mettere l'accento anche sul tema del verde che già esiste, perché c'è certamente una questione di rilancio a rialzo degli spazi verdi, ma c'è un verde che già esiste, che abbiamo sotto gli occhi e che non ci accorgiamo che in realtà va recuperato, rivalorizzato, ed è il caso di tutte le tante infrastrutture verdi che doppiano infrastrutture vere già esistenti. I filari che corrono lungo le ferrovie, i filari che corrono lungo le autostrade, i filari che corrono lungo gli argini dei canali irrigui che solcano tante parti del nostro paese, a cominciare dalla pianura padana per salire verso le alte montagne di cui parlava prima Sandro Bratti. Ecco, quello è un verde che non dobbiamo inventarci, è un verde che dobbiamo riscoprire e rilanciare. Ancora abbiamo chiamato a raccolta i comuni per raccontare a quelli più bravi, che sono più avanti, quali sono i modelli a cui possono ispirarsi quelli che sono più indietro, quelli che devono ancora cominciare o che sono a metà del guado, perché la realtà è che questo straordinario, meraviglioso paese, accanto a un sacco di cose che non funzionano, ne ha altre che funzionano benissimo. E quindi bisogna che tutti lo sappiano, sia a quelli che ne sono i protagonisti attivi, perché siano confortati in quello che fanno, sia agli altri che non lo fanno perché siano stimolati a farlo pure loro. E ancora, l'ultimo tema che abbiamo voluto toccare, e guardate sono temi che ci sono tutti in questo rapporto, che devo dire è ovviamente ogni anno più ricco, ogni anno più carico di spunti e di stimoli, c'è il tema di creare un punto d'incontro, un fattore di convergenza fra la voglia e la spinta di investire e di scommettere sulle politiche del verde per rendere questa qualità dell'ambiente urbano molto più elevata e le risorse che servono. Perché questa è una faccenda dove ovviamente un capitolo centrale è quello delle risorse finanziarie. Allora, che tempi viviamo dal punto di vista delle risorse finanziarie dal lato pubblico? Non c'è bisogno di, come dire, di indugiare, diciamo, sull'argomento, penso che sia sufficientemente chiaro. E allora il tema diventa. Ci sono 23 mila miliardi di dollari che cercano uno scopo e uno sbocco a livello planetario in termini di responsabilità sociale d'impresa, in termini di mecenatismo, un fenomeno che nel nostro paese sostanzialmente è quasi assente, salvo alcune limitate e lodevoli eccezioni nel nord Italia, in alcune parti in particolare del nord Italia, e ancora nella finanza etica. Allora, noi dobbiamo creare un raccordo e un punto d'incontro tra questo denaro, questa enorme massa di denaro, in quota parte quella disponibile, diciamo, a prendere la strada dell'Italia, e le politiche di rilancio degli ambienti urbani dal lato, in particolare, delle politiche del verde. Perché da quel lato è più facile. Non c'è giorno in cui, nei quotidiani che fanno informazione finanziaria, non ci sia una banca o una compagnia assicurativa che non si compra uno spazio a pagamento pubblicitario usando per promuovere la propria immagine o la foto o l'immagine o la stilizzazione di un albero. Io non sono un sociologo, però un motivo evidentemente ci sarà. Allora, io chiudo questo breve saluto con l'apprezzamento per il lavoro che fa Ispra attraverso questo rapporto e ci aggiungo però anche un ringraziamento per il lavoro straordinario che Ispra fa accanto e insieme al Comitato, perché se il Comitato in questi cinque anni è riuscito in mezzo a mille difficoltà a portare a casa alcuni risultati, se non altro a rilanciare un dibattito che non era stagnante, non c'era proprio, lo dobbiamo a Ispra. Da quando abbiamo iniziato il nostro viaggio nel 2013, a inizio del 2013, fino a oggi, che è quasi la vigilia di Natale. Ci approssimiamo al Natale 2018. Grazie a Ispra, grazie ai vostri straordinari ricercatori, grazie al Presidente e al Direttore Generale. Grazie a tutti.